Nel caso Raimo, il docente romano sospeso per tre mesi per le critiche al ministro Valditara, ci sono diverse cose che non tornano. Innanzitutto va evidenziato che le parole di Christian Raimo, indubbiamente sopra le righe, sono state pronunciate nel corso di un evento organizzato da Alleanza Verdi Sinistra nell'ambito della campagna elettorale per le elezioni europee, cioè le critiche al ministro e alle sue scelte politiche sono state espresse da un candidato al Parlamento europeo che però è vero e anche un dipendente dello Stato e dunque vincolato al codice di comportamento. Fin da subito per la verità il ministro Valditara aveva dichiarato che trovava inaudite le espressioni usate dal professore romano ed è proprio su questo che va rilevata una ulteriore anomalia. Per quale motivo il ministro, almeno fino ad oggi, non ha ritenuto di querelare Christian Raimo affidando quindi alla giustizia ordinaria ogni decisione in merito? Per intanto resta il fatto che Christian Raimo sta ricevendo molta solidarietà non solo dalle forze politiche di opposizione, Alleanza Verdi Sinistra, PD, Movimento 5 Stelle, questo c'era anche da aspettarselo e dai sindacati, in particolare FLC, CGL, Gilda e Cobas, ma anche dagli studenti della sua scuola e da tanti colleghi e sono almeno 800 le persone che fino ad ora hanno versato un proprio contributo a sostegno del professore romano che oltre ad essere sospeso dal servizio con stipendio dimezzato dovrà anche sostenere le spese legali per la sua difesa. L'obiettivo della raccolta era di mettere insieme 5.000 euro ma in questo momento sono stati ampiamente superati i 21.000 euro e la solidarietà arriva anche dal quotidiano domani con cui Raimo collabora da molto tempo. Nella edizione del 9 novembre doveva esserci un suo articolo intitolato e adesso vi spiego che cosa volevo dire. In realtà c'è soltanto uno spazio bianco e la direzione del giornale spiega che lo scrittore ritiene che in questo momento in questo clima di repressione del dissenso da parte del governo un nuovo intervento potrebbe ulteriormente nuocergli.